ciao a tutti gli amici di the room view bentrovati eccomi qua di ritorno con un unboxing ed oggi andiamo ad unboxare il nuovo box di lupen che grazie a yamato sta vedendo veramente pubblicata la qualunque in blu ray sono veramente contento perché sta arrivando veramente tutto di lupen per questa occasione per questo mese la yamato ci ha importato in un video il tv movie collection 2001 2003 quindi siamo arrivati agli anni 2000 con i film speciali televisivi e qui ce ne sono veramente di belli tra cui un diamante per sempre che molti appassionati lupen reputano uno dei più belli in assoluto tra i film di lupen è un bel box come al solito di cartone come yamato vuole distribuito ovviamente da eagle picture parte superiore scritta lupen anche nella parte in basso e poi ovviamente qui abbiamo tutti i credits e vi ricordo che come gli altri box è un'edizione limitata e anche numerata a mille copie quindi dopo queste mille copie non sarà più disponibile una volta estratti i gli amari cicciottose dall'interno possiamo andare a scoprire i film questo è alcatrax connection ovviamente ha un ottimo disco blu ray con il canonico artwork della linea parliamo di film televisivi quindi quattro terzi audio 2.0 hd avete la possibilità di scegliere anche la copertina vi piace di più ma soprattutto all'interno c'è anche un bel booklet e visto che non ci sono extra come sempre in questi film come quasi sempre è un'ottima occasione insomma per avere un po di extra perché avete un po di bozzetti preparatori realizzati in occasione di questo di questo film nella lavorazione di questo film e poi c'è anche se non erro anche una gallery come sempre verso la fine del booklet devo dire che io sono stra felice ovviamente parliamo di film televisivi quindi non hanno goduto di un restauro certosino come il castello di cagliostro però è un hd secondo me è pulito dettagliato e che sicuramente ci fa vedere questi film al meglio insomma non li abbiamo mai visti con questa definizione stiamo per finire questo booklet prima di passare agli altri agli altri dischi che ovviamente hanno le medesime caratteristiche vedete ci sono un po anche di bozzetti che non sono dei personaggi ma dei vari veicoli e quant'altro all'interno del film un po di ambienti quindi c'è anche una piccola gallery come vi dicevo questa era l'ultima pagina e abbiamo concluso con alcatrax connection poi passiamo a episodio zero eccolo qui guardate che bello c'era una volta lupen anche in questo caso avete il medesimo disco con le medesime info quindi 2.0 hd e video in quattro terzi avete la possibilità di scegliere quale copertina vi piace di più che per finire ovviamente c'è anche il booklet che anche in questo caso vi offre un po di contenuti ovvero i bozzetti preparatori per quanto riguarda questo film di lupen io devo dire ripeto che sono cose che mi piacciono molto perché ti vai a mettere in collezione anche dei piccoli art book che spesso e volentieri costano più dei dei film e andiamo andiamo avanti con questa carrellata di questo booklet prima di passare all'ultimo film e poi ai saluti questo è un box che trovate un po ovunque io vi lascerò come al solito il link in descrizione di amazon ma lo trovate su qualunque store qui abbiamo una galleria di sfondi e armi e quant'altro e vi consiglio comunque di farlo vostro il prima possibile insomma aspettate magari qualche offerta qualcosa ma fatelo vostro perché avete la possibilità insomma di essere tra i mille possessori poi non so se ci saranno ristampe future io vi consiglio di seguire il gruppo di blu ray e dvd italia del quale sono amministratore insieme ad altri due ragazzi perché all'interno spesso e volentieri postiamo anche le offerte non solo di amazon ma anche la possibilità di acquistare questi prodotti in uscita con con uno sconto del 30 per cento su ibs o feltrinelli quindi iscrivetevi insomma statici appresso perché ne vedrete sempre delle belle e poi andiamo a scoprire l'ultimo film che vi dicevo è uno dei più piaciuti dei più amati apprezzati dai fan di lupin un diamante per sempre e anche in questo caso disco 4 te con a video 4 terzi e audio 2.0 film televisivo anche in questo caso possibilità di scegliere quale cover ci interessa di più e poi anche qui abbiamo un bel booklet booklet che ovviamente vi segnala la presenza di bozzetti preparatori come sempre ragazzuoli se vi è piaciuto questo video mettetelo un like perché mi fa piacere insomma sapere se la direzione è quella giusta se vi interessano questi video iscrivetevi al canale poi attivate la campanella in alto per restare sempre a giornale sull'uscita dei prossimi unboxing ma mettiamo anche interviste e quant'altro e soprattutto se vi fa piacere lasciate insomma sempre un commentino perché fa sempre piacere leggervi abbiamo un po di gallery come armi e quant'altro piano piano ci stiamo arrivando e devo dire che siamo ormai quasi in dirittura d'arrivo perché abbiamo toccato gli anni 2000 quindi a breve avremo completato tutti i film di di lupen in hd per quanto riguarda gli speciali televisivi nulla nulla da dire veramente ottimo lavoro da parte di yamato con la distribuzione della eagle pc per questo cofanetto tv box 2001 2003 è tutto noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti